Mi presento velocemente, poi chi ha curiosità alla fine della presentazione, che potete scaricare già subito per chi vuole andare a vedere le anticipazioni, c'è il mio profilo LinkedIn, quindi è mostrato cosa ho fatto finora e soprattutto le cose a cui sono appassionato. Sono nella community di Milano dal 2016 e per tre anni di fila ho partecipato al WordCamp di Milano come social media manager e volontario, quindi amo il mondo WordPress e sono molto contento di stare qua con voi ad approfondire questi temi che mi appassionano tantissimo e che mi auguro vi serviranno. Ho voluto sintetizzare i contenuti perché così avete già da subito un overview di quello che vado a presentarvi, un'introduzione assolutamente breve, vista l'ora, non voglio tediarvi con discorsi teorici, ma mi serviva per avere un cappello introduttivo all'argomento e poi entriamo subito subito nella parte più importante, cioè le configurazioni. E su questo io ho voluto fare un taglio medio, quindi anche confrontandomi con altri colleghi di WordPress abbiamo convenuto che servano conoscenze tecniche, però mi piacerebbe fare due domande. Quanti sviluppatori ci sono in sala? Ok, bene, prevedevo circa la metà. E quanti di voi utilizzano già la data analytics? Ah, bene, bene, quindi questo è meglio di come avevo previsto, ma va bene così, va bene così perché è un mondo quello della data analytics ed è importantissimo avere delle nozioni che permettono di capire cosa succede. E per questo motivo che parlerò anche di KPI, che magari qualcuno di voi ha sentito nominare, ma alla fine a cosa mi serve? Io ho un sito, un piccolo e-commerce, i KPI, ma per cosa? Lo vedremo, lo vedremo. Esempi reali nella parte finale e un brevissimo takeaway. Vado subito a parlarvi dell'introduzione e inizio con un acronimo. Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. L'avrete sicuramente riconosciuto. Già nel 1600 Galileo Galilei aveva già capito tutto sui dati, ma proprio in un modo eclatante, tant'è che è riconosciuto il padre della scienza moderna. La seconda citazione è ma perché ci interessano i dati? Ma perché a distanza di centinaia o di anni siamo qui a parlare di dati, di misure? E qua la seconda e ultima citazione. William Thompson è il signore che ha creato la scala Kelvin. Lui abitava a Cambridge e quindi Kelvin era un ruscello che c'era lì vicino e è famoso per aver inventato la scala che misura le temperature. E ci dice una cosa fondamentale. Se non si può misurare una variabile, una qualunque metrica, quindi vi anticipo già subito una parola chiave, non si può migliorare. Perché? Perché non si hanno dei paragoni, non si hanno degli ordini di grandezza. Ho finito con le citazioni e arriviamo un po' più su ai nostri giorni. Anche qui non entro nel merito, ma tutte le metodologie di grandi e piccole aziende, da metodologia agile, continuous improvement, design thinking, tutto quello che volete, cosa hanno in comune? Hanno la misura e l'analisi, passando per i report, ma non è fondamentale per migliorare. Quindi i test e gli sviluppi dipendono fortemente dall'analisi e dalla misura. Questo vi fa capire l'importanza dell'argomento. Ed è importante non solo per le grandi aziende, per cui ho lavorato fino a cinque anni fa, ma soprattutto anche per i piccoli, anche per i piccoli e-commerce. Perché se non hanno chiaro cosa sta succedendo nel back-end del sito, è difficile raggiungere l'obiettivo. Quindi, con questi presupposti che sottolineano l'importanza, ecco cosa andremo a fare in questi 20 minuti in maniera sintetica e, mi auguro, esaustiva. Per darvi un overview di quello che serve davvero, anche per i siti piccoli, anche un semplice blog. Occorre un account di Google Analytics. Attenzione, però, qua una piccola premessa. Io utilizzo tantissime piattaforme, tantissimi vendor, quindi il fatto che io ho scelto Google, lo dico nella slide dell'anticipo, ve lo voglio dire subito. E per questo motivo qua ha l'84,6 market share degli Analytics. E i motivi sono molto semplici. Perché? Perché è gratuito, perché questa cosa loro l'hanno fatta già da 30 anni fa, e poi un altro motivo è perché funziona. Oggettivamente funziona, va anche bene. Questo è un dato di pochi giorni fa, l'ho aggiornato proprio per questa presentazione. Quindi la mia scelta di usare Google è puramente simbolica, perché è gratuita. Quindi le cose che io vi dico le potete fare anche voi a casa, senza preoccuparvi dei costi, senza preoccuparvi di particolari licenze. La seconda cosa che occorre, per essere efficace una data analytics, è configurare un account Google Tag Manager, che è una tecnologia collegata, non mi dilungo. Quindi il terzo passo è configurare queste due piattaforme e naturalmente, qua lo sapete meglio di me, lo sanno molto bene i sviluppatori, il collegamento al sito può avvenire semplicemente con un plugin. E qua ve ne indico uno che io utilizzo da cinque anni e mi trovo benissimo, ma naturalmente potrete anche svilupparlo a manina, ci andate a mettere il codice che vedremo. L'ultima cosa, siccome l'avete sentito oggi molte volte, l'asseo è importante, chi meglio della Google Search Console, che è la piattaforma gratuita, ancora una volta, perché a Google piace regalare, ma fondamentale per tutti i webmaster, ancora una volta. Configurarla è semplicissimo e vi farò vedere come farlo in pochi passaggi, ma vi dà un vantaggio enorme, perché usandola potrete indicizzare il vostro sito con delle modalità molto più veloci rispetto ad aspettare che lo spider, come si chiamano i bot automatici che vanno a rilevare l'asseo dei siti, passi da magari ogni due mesi, ogni tre mesi. Se voi avete la Search Console installata, decidete voi quando chiedere a Google di indicizzare le vostre modifiche. Non poteva mancare il plugin della GDPR, quindi non entriamo nel merito della privacy, ma tutto quello che vi dirò è assolutamente legale, è assolutamente compliant, client, quindi non ci sono problemi dal punto di vista della privacy. Questo l'abbiamo già detto. Allora, in 20 minuti naturalmente non posso entrare nel dettaglio di tutto, anche se vi farò vedere delle configurazioni critiche che dovete conoscere, perché sennò è un po' più difficile. Però, per iniziare, chi non ha installato Google Analytics, inizi da questo titolo, che è esattamente preso dal supporto di Google, basta digitare sulla SERP quel titolo e sarete immediatamente nella pagina di inizio configurazione. Quindi la procedura è abbastanza semplice, ancora una volta, conoscenze medie, quindi dovete assolutamente conoscere le cose basi, ma non è difficile. Anche a tentativi ci potete arrivare, non è un problema. La cosa importante è che alla fine della procedura, se voi andate in data stream, vedete questo ID, che è il measurement ID. È la conferma che la configurazione è terminata sulla piattaforma e potete iniziare a utilizzare la piattaforma. Ecco, quindi vi ho indicato in modo molto chiaro cosa guardare per vedere se la configurazione è terminata. Stessa cosa con Google Tag Manager, partite dall'Help e, cosa importante, se state usando un sito, scegliete l'opzione piattaforma e destinazione web, naturalmente, anche se, come potete vedere, è utilizzabile anche per le app su mobile, iOS, Android. AMP è una modalità per velocizzare le pagine, è una tecnologia innovativa che serve, diciamo, per siti complessi e da un certo punto di vista molto performanti. Stessa cosa, alla fine della procedura avrete un ID, che si chiama Google Tag Manager ID, in questo formato. Quando siete dentro la piattaforma, non è molto complessa l'interfaccia, ma potete vedere tranquillamente il Google Tag, che è esattamente il link verso l'account che avete appena configurato. Infatti, cosa si va a fare come passaggio successivo? Qua siamo nella Search Console, dove ci sono i tag, cosa si va a fare? Si va a mettere il tag di Google Analytics, quindi si crea un link tra le due piattaforme. Non vi preoccupate, a breve c'è una sintesi, perché mi rendo conto che alle 6.10 parlare di tag ID potrebbe essere anche complicato. E poi comunque avrete la traccia sul PDF. Siamo arrivati al plugin. Allora, io sono cinque anni che uso GTM for WordPress. È un membro della community che ha un plugin molto, molto ben fatto. Da cosa capisco che è ben fatto? Non tanto dal rating, ma tanto dalla compatibilità. Quindi è importante che nella vostra versione WordPress sia compatibile e diciamo che non ho mai avuto grossi problemi. Tra l'altro è stato aggiornato veramente di recente. Detto questo, una volta installato il plugin, cosa andiamo a fare? E questa è la configurazione minima, 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 che vi serve per attivare tutto il flusso. Cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere il Google Tag Manager in questa posizione, General. Poi andiamo a mettere in On il container e in Off la compatibilità. Queste sono le configurazioni minime, tale per cui il plugin inizia a funzionare immediatamente dopo la configurazione. Una cosa che non ho detto, che alcune volte Google ha bisogno di qualche giorno, quindi può esserci la necessità di aspettare 48 ore, ma dipende, dipende dal traffico, dipende da tantissime variabili che non possiamo naturalmente governare. L'ultima cosa, poi abbiamo finito con le configurazioni e vediamo la sintesi di quello che abbiamo fatto. Manca da configurare la Search Console, fondamentale, vi invito a farla anche come primo step, perché è più facile e non ha bisogno di plugin. Anche questo è il supporto ufficiale di Google. Cercate questa stringa e sarete immediatamente ridiretti nella pagina di inizio procedura. Giusto una nota, ci sono tanti modi per collegare la Search Console al vostro sito. Come vedete ce ne sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sette. Io utilizzo il più potente, il più sicuro da un certo punto di vista, che è il file HTML. Cosa significa? Significa che voi scaricate alla fine della procedura un file di 3K, 4K massimo e lo andate a mettere esattamente nella home del vostro sito. Con FTP, una copia banale, è la più sicura perché è velocissima. Questo funziona anche in giro di poche ore. Questo è uno dei motivi perché è utile avere la Search Console, che vi ho accennato. Vedete, vi mostra in questo screenshot le pagine che non sono state indicizzate. Questo è evoluto come esempio, ma vi assicuro che ci sono siti con molte più pagine. Quindi vedete che ci sono due pagine che hanno dei problemi con la ridirezione. Perché ho evidenziato che non è stato fatto lo starter? Perché Google li ha rilevati, ma il webmaster del sito non si è preoccupato di far partire il fix di questo problema. Quindi è semplicissimo andarci sopra, cliccare lo start e voi forzate Google a andare a rilevare il problema che è stato evidenziato. Ad esempio qua c'è una pagina che non è stata indicizzata. Non sappiamo i motivi, bisogna fare un'analisi, ma in ogni caso alcune volte ho notato che se voi fate partire il fix, anche senza sapere il motivo, magicamente se sono siti fatti bene, viene risolto anche in automatico. Ma è da verificare, ribadisco. L'ultima cosa, GDPR. Quali plugin lo scegliete voi? Quello che più vi piace, quello che ce ne sono gratuiti a pagamento, quello che volete. L'importante è che lo mettiate, perché per essere compliant occorre che il vostro sito abbia la gestione dei cookies e della privacy policy. Scegliete voi quello che vi piace. Eccoci qua. Questa è la sintesi di questa parte della presentazione. Il vostro sito, plugin GDPR, quindi indipendente, anche se è una semplificazione. Alcune volte cosa succede? Succede che gli ultimi plugin, dopo le ultime modifiche, vanno a chiedere alla piattaforma di Google l'abilitazione di alcuni tag. Ma è una semplificazione, per ora non ce ne preoccupiamo. La search console, come vedete, è indipendente e configurata col file HTML o con qualunque altro vostro, diciamo, modalità. Potete usare anche Google Tag Manager. Io alcune volte, quando ho dei siti molto complessi che hanno Tag Manager per tutte le funzionalità, ci metto anche la search console. Ma è a vostro piacimento. La cosa importante è qua. Perché dico che è importante? Perché è quello che poi utilizzerete. È l'interfaccia che vi servirà per andare a analizzare i dati. E entriamo nel merito. Io, in questa presentazione, ho dato come obiettivo dati per il marketing. I dati si possono usare per qualunque obiettivo. Io, perché ci lavoro, ritengo che i dati dei siti per il marketing siano quelli più preziosi. Perché? Perché molto spesso chi fa business con il marketing fa delle campagne. Ed è proprio indispensabile andare a vedere cosa succede su questa piattaforma se ci sono delle campagne. L'idea di questo talk mi è venuta due anni fa, circa, quando continuavo a trovare clienti che ignoravano completamente questo mondo dei dati. perché loro sentivano parlare di data driven, data strategy, tutti i paroloni. Ma io, con il mio sito, non è che posso dedicare risorse, tempo. Il mio obiettivo è stato, anche piccoli e-commerce, renderli autonomi sulla lettura dei dati. Perché? Perché un imprenditore deve essere autonomo su queste cose. Non c'è consulente che tenga. Non perché, diciamo, sopravvaluto, sottovaluto il lavoro dei miei colleghi o il mio. Ma perché? Per decidere dove andare, devo essere io a vedere la strada. Non si può andare con il casco completamente oscurato e pretendere di trovare clienti online. È sbagliato. E io su questo sono molto chiaro e i fatti mi hanno sempre dato ragione, finora. Quindi, quello che vi faccio vedere adesso è un passo successivo. Sono le metriche del digital marketing, che è un altro mondo. Sono tutti mondi verticali. Io mi ci trovo a mio agio perché provengo dalla grossa industria, dalla grossa società con architetture molto complesse di dati. Quindi mi ci trovo a mio agio. Però vi assicuro che se partite da piccole cose, non è indispensabile partire e capire tutto del vostro e-commerce. È importante capire le cose basi, importanti, ma che poi vi permettono di vedere tutto il flusso. Ma ci arriviamo anche qua. Quindi vi ho riportato in questa slide ad esempio le conversioni. Qua sono esempi di metriche. Cosa sono le metriche? Sono i valori. Sono i valori delle funzioni che noi andiamo a rilevare. Ma ce ne sono tantissime. Ce ne sono tantissime. Per citarne alcune molto conosciute, page view o pages per session. Cosa significa? Significa che io sul mio sito so esattamente qual è la pagina più vista. Ma so anche dove avvengono le maggiori sessioni di visita. Anche qui potrei fare un talk di altre due ore. Va bene così. Per ora vi serve solo come overview. Ma io cosa faccio? Devo misurare tutto? No. Non serve misurare tutto. Come non serve andare a vedere tutto il contenuto di una piattaforma. Siamo noi che conosciamo il business che decidiamo cosa scegliere. Quindi i KPI, i famosi K-Performance Indicator non sono altro che delle metriche che funzionano su determinati obiettivi. Quindi io non vado a misurare metriche che non mi interessano. Se io sto facendo una campagna di generazione lead un'idea, ma è un'idea, è una mia proposta mi vado a vedere le registrazioni sul sito vado a vedermi le compilazioni dei form le richieste di informazioni cioè bisogna ragionare con la data analytics non è puramente un fatto tecnologico hai un numero bisogna adattare quel numero alle esigenze del vostro business dei vostri obiettivi perché è di questo che stiamo parlando. Io vi dico sempre si inizia da piccole cose non bisogna analizzare tutto anche perché ci vorrebbero ore e ore quindi iniziate dalle piccole cose questo è il mio consiglio ad esempio già sapere ad esempio chi ha un e-commerce il valore medio dell'ordine in alcuni casi può essere un aiuto ma ce ne sono tante altre di KPI importanti i KPI sono fondamentali a inizio progetto quindi vanno in qualche modo concordati perché la nuova piattaforma di Google la GA Forum viene chiamata ha bisogno di configurarle le conversioni quindi sono io che vado a configurare sul sito del cliente quello che serve e anche qui non servono budget enormi non serve che misurate tutto quello che succede sul sito ma è importante che misuriate quello che vi serve e quello che vi serve inizialmente è poco poi succedono delle dinamiche interessanti ma è un altro discorso questo è un esempio un primo esempio vi faccio notare una cosa questi sono dati reali del Google Merchandise Shop Google vende dei gadgets dei prodotti tipo felpe tipo oggetti vari su una piattaforma e fornisce gratuitamente un demo account quindi fornisce i dati reali di questa piattaforma e questo è molto importante perché potete vedere quello che succede realmente su questo sito io qui cosa ho fatto? sono andato a scegliere una finestra temporale da 1 gennaio al 24 settembre e sono andato a vedere quelli che sono quello che è il traffico il traffic acquisition da inizio anno cosa ci mostra la piattaforma? ci sono state 895 ricerche organiche 484 cross network in questo caso significa che ci sono altri siti che hanno dei link collegati e guardate bene anche Google paga per avere per avere per vendere i suoi prodotti quindi 63 ricerche a pagamento quindi fa campagne poi ho scoperto che fa tantissime campagne su YouTube anche qui potremmo parlarne un bel po' chi ha figli lo sa bene perché hanno scelto YouTube io come padre di un quindicenne ne so qualcosa detto questo ci sono tantissime altre metriche interessanti ad esempio le sessioni la media delle sessioni per utente e qua mi serve per capire quali sono i buoni clienti e quali non sono ancora particolarmente diciamo interessati sono dei lead a un altro livello qua necessariamente devo andare veloce stessa finestra temporale menu e-commerce purchase ecco vedete quello che è stato venduto come prodotto quindi vedete che la bicicletta che si chiama Google Campus Bay è stata vista 20.381 volte è stata aggiunta nel carrello 16.000 volte è stata acquistata 343 se voi ci mettete anche l'importo del prodotto del prezzo avete anche items revenue quindi immediatamente vedete già subito come stanno andando le cose è un immediatamente relativo perché dico questo perché dovete entrare nella piattaforma dovete sapere qual è il menu qual è il vostro KPI anche qui si inizia gradatamente le grosse società vanno a vedersi tutto nel dettaglio si inizia con dei report report anche molto semplici che vi farò vedere nell'ultima slide un'altra cosa che volevo dirvi molto importante e fondamentale perché chi usa Google Ads come piattaforma per le campagne è che in modo molto chiaro viene geolocalizzato il traffico quindi cosa significa per chi fa campagne con Google Ads se la stragrande maggioranza del traffico arriva ad esempio nell'area di Roma e io voglio aumentare le vendite in quest'area non mi importa fare la campagna in tutta Italia io mi concentro esattamente sulla città come faccio? lo vedo perché nel dettaglio c'è anche la città mi piacerebbe avere altro tempo ma devo necessariamente andare avanti una parola su Google Search Console quando vi dicevo prima che se lo configurate vedete esattamente le pagine indicizzate del vostro sito e quelle che non sono indicizzate è bello qual è è che vi dice anche la ragione perché non è indicizzato quindi conoscendo la ragione non ci vuole tantissimo perché diciamo l'analisi è molto facile ecco arriviamo forse all'esempio che a me piace di più perché perché questo è un report automatico che genero per alcuni clienti che fanno proprio campagne con Google Ads ed è diciamo che è quello che più piace perché perché vedono in una in una sola dashboard vedono i click suddivisi diciamo per varie tipologie il costo e le conversioni l'andamento del click del click to rate un altro KPI molto importante nel marketing digitale per farvela breve in modo sinottico voi riuscite a vedere immediatamente come è andato l'ultimo mese le ultime due settimane è una piattaforma veramente potente e va solo configurata e approfondita quello che vi chiedo è di farlo assolutamente direttamente il take away è molto semplice configuratela la piattaforma identificate i KPI fondamentali e soprattutto verificateli regolarmente e questa è una frase di cui io sono profondamente sicuro solo con i dati concreti veri riuscite a ottenere gli obiettivi che avete sono andato lungo mi hanno fatto vedere due minuti mi sono riproposto di lasciare tempo per le domande ma naturalmente se ce ne sono io vado velocissimo a rispondervi ho messo il mio profilo LinkedIn ho messo i miei dati se avete bisogno sono comunque disponibile a qualunque contatto in effetti abbiamo zero tempo dovevo eliminare un po' di argomenti ma non ce la facevo quindi se avete domande parlate direttamente con Nicola una rapidissima dai vai ci entri comunque servono delle configurazioni particolari ci sono delle modalità per configurare la piattaforma a funzionare con alcuni accorgimenti anche con le VPN probabilmente se tu esci in Francia Google pensa che tu sei francese cambia l'origine ma di fatto lui traccia quello che arriva cioè non ti vede che sei in Italia vede che allora se vuoi dire questo sì è chiaro ma è questo tutto questo si basa su una tecnologia dell'IP address l'IP address è l'IP che è esterno è chiaro grazie mille grazie a voi grazie a voi